Benvenuti a ISE 2014, sono Simone D'Ambrosio, responsabile commerciale della Intermax Sistemi. Siamo qui nel nuovo stand di AMX per mostrarvi le ultime novità della fiera. Cominciamo dalla nuova serie di Touch Panel Modelo S che viene presentata in tutta la sua gamma. Vi invito a seguirmi nello stand per farvi apprezzare le ridotte dimensioni dei Touch Panel. Potete vedere che finalmente sono disponibili i Touch Panel Serie S con una dimensione ridotta, magari molto adatta alle piccole sale e riunioni che magari non richiedono un Touch Panel di grosse dimensioni e varie possibilità di montaggio. In effetti, come potete vedere, le basi possono essere montate sopra un sistema che non consente il movimento del Touch Panel stesso. I cablaggi sono molto semplici, si può utilizzare semplicemente un cavo LAN con alimentazione POE. Muovendoci nell'altra parte dello stand possiamo farvi vedere i nuovi Modelo G5, quindi il Modelo X-Series con un'aumentata potenza di calcolo, sono dotati di processori quad core e finalmente implementano una novità molto importante. È possibile con la versione G5 utilizzare delle app. Una app che può saltare all'occhio è sicuramente quella di Skype, qui in funzione nello stand, che fa uso sia della parte audio, degli speaker e dei microfoni, ma anche della telecamera incorporata. La potenza di calcolo permette anche di navigare su Internet attraverso l'utilizzo di un browser, quindi è possibile all'interno dei Touch Panel finalmente navigare su Internet e fare uso magari di quelle applicazioni che sono disponibili anche di controllo, che sono disponibili su pagine web. Muovendoci da questa parte, vogliamo far vedere le varie possibilità di installazione delle serie X ed S. Sulla sinistra, partendo dai tagli più piccoli, 4 pollici e 3 orizzontale e verticale, per quanto riguarda i tagli orizzontali si parla della serie S, e per quanto riguarda invece il Touch Panel che è in quella posizione, vedete il montaggio sul vetro. Attraverso un sistema innovativo di incollaggio e di cablaggio trasparente, il tutto risulterà esteticamente molto credevole. e andiamo a risolvere la problematica di installazione di uffici che vengono realizzati con pareti in vetro, addirittura molto lisce come il marmo. Sulla destra trovate il montaggio flash mount, quindi a filo muro, che consente un'installazione gradevole e esteticamente in linea con i nuovi dettami estetici.